Ciao a tutti! Ciao! Ho una cosa importantissima da chiedere a nome di tutte le donne. Spara! Fabio, quali sono gli esercizi migliori per i glutei? Su questo non ho dubbi. Gli esercizi migliori sono gli squat e gli affondi. Squat e affondi. Squat e affondi. Squat e affondi. Ma per un motivo molto semplice, perché sono gli esercizi che meglio vanno a riprendere la fisiologia del movimento, diciamo, della coscia rispetto al macchino. Poi ci sono anche gli esercizi che vanno a rispettare l'estensione della gamba rispetto al bacino. Gli esercizi di gluteus di estensione, la gluteus machine. Però bisogna prestare molta attenzione perché delle rotazioni esagerate a livello del bacino con dei sovraccarichi possono portarci dei grossi problemi. Quindi per fare un lavoro in sicurezza e bello efficace sui glutei, ricordatevi, squat e affondi, squat e affondi, squat e affondi. Parola d'ordine. Squat e affondi. Buona fitness. Buona fitness a tutti. Grazie, ciao. Grazie a tutti.